La produzione industriale italiana a maggio è tornata a crescere dopo due mesi di flessione, lo rileva l'Istat. Rispetto ad aprile infatti il comparto segna una crescita dello 0,5%. Tuttavia se confrontato con lo stesso periodo dello scorso anno la produzione registra una flessione del 3,3% e quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat che mette in evidenza come nel mese scorso si osservano aumenti per l'energia e per i beni di consumo e i beni intermedi, mentre appaiono lievemente in calo i beni strumentali. I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche, la fabbricazione di coke e i prodotti petroliferi raffinati e la fornitura di energia elettrica, gas, valore ed aria. Le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di mezzi di trasporto, nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori e nella fabbricazione di macchinari e attrezzature. Secondo il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si tratta di un risultato incoraggiante, particolarmente significativo poiché supera le aspettative e in controtendenza rispetto ad altri partner europei.